Un evento che unisce la cultura alle festività. La Chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Vigarano Pieve ospiterà l'iniziativa Restaurare il Cielo, che racconta il restauro della Basilica della Natività di Betlemme. Il 19 dicembre, a partire dalle 17.45, nella bellissima Chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Vigarano Pieve, avrà luogo questa serata culturale dedicata alla Basilica della Natività di Betlemme. Direi che presenteremo questo bellissimo restauro, un restauro epocale, dove seguiremo passo per passo tutte le fasi del restauro, assieme a chi? Assieme al titolare della Piacenti S.p.A., che è la ditta che si è giudicata nel 2013, questo appalto di restauro, per seguire con altri importanti relatori, tra cui gli archeologi che hanno seguito passo a passo tutte le scoperte di questo fantastico restauro. La presentazione ha un significato particolare per la comunità. È il momento migliore per presentare questo evento, proprio sotto Natale, a pochi giorni dal 25 dicembre, e sarà una serata che legherà la cultura con la nostra tradizione cristiana. L'iniziativa fa parte di un programma di eventi che si terranno nel periodo delle festività a Vigarano Mainarda. Siamo felicissimi di ospitare questo evento all'interno di un programma che abbiamo preparato per il nostro territorio, e quindi all'interno di una scaletta che prevede un weekend sia del 10, 11 e 12, che è quello del 19 dicembre, dove faremo eventi sia su Vigarano Mainarda che Vigarano Pieve. Ci saranno giochi per i bambini, il trenino di collegamento, i mercatini, però è stato molto importante riuscire ad inserire all'interno di questi eventi ludici e di divertimento anche un momento culturale importante come questo.